Passiamo a Sanchez, lo amo e lo odio, perché in realtà le stats sono fighe, lui si gira pure molto bene, solo che a volte quell'82 di freddezza si sente tanto, è poco freddo sotto porta delle volte, pure quell'86 di finalizzazione, che non è male per carità, però fisicamente un po'... Per tutto il resto ci sta, forse la velocità un po' si sente che è solo un 90, per il resto in realtà è utilizzabile secondo me in una serie A tranquillamente.